... Camminare è un modo tranquillo per reinvendare il tempo e lo spazio. Prevede uno stato d'animo, una lieta umiltà davanti al mondo, un'indifferenza alla tecnica e ai moderni mezzi di trasporto o quantomeno un senso della relatività delle cose. Fa nascere l'amore per la semplicità, per la lenta fruizione del tempo. Quanti chilometri? 3.000. Vojtek viene da Fatima, poi Strasburgo. No, 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 Santiago de Compostela, Lourdes, Ars, Tese, Strasburg, in un Parlamento europeo. Ora il Vaticano finisce in Assisi. Assisi. E poi Polonia. Sì, sono Pol. Vi vediamo dopo, ciao Vojtek, buon cammino. Buon cammino. Buon cammino. Buon cammino. Il viandante, il riposo notturno, i pasti iscrivono nella continuità del tempo un'abitazione che ogni giorno si rinnova. Il viandante afferra il suo tempo, non si lascia afferrare dal tempo. Manu! Ciao! Manu, ciao! Non ci posso credere! Lì ci abita qualcuno. Sì, sì! Ci abita qualcuno, no? No, è una signora davvero! Io sono! Sì, cià spiegare. Sì, sì. Do tutte parole, so doce e so amare, so sembo parole d'amore, ma passa l'aiuto che è dura. Benvenuti penegrini, ciao, non dovresti disturbarti con le campane, dov'è il resto del gruppo? E' lontano, lontano. Hai fatto vedere la collegiata. A questo punto sono arrivato, mettimi giro. Almeno la faccio scontare la cosa.